Dopo aver visto insieme una breve panoramica sul linguaggio passiamo alla configurazione del nostro ambiente di lavoro. Se siete su Linux o Mac potete controllare la versione del vostro interprete aprendo la riga di comando e digitando per v. In output vi verrà restituito la versione dell'interprete, nel mio caso la 5.28.1. Nel caso di esito negativo vuol dire che il Perl non è installato sul vostro sistema e dovrete essere voi a installarlo manualmente. Se invece siete su Windows vi consiglio questo porting che si chiama Astroberry Perl, disponibile per architetture a 64 e 32 bit e anche nella sua versione portatile. Dopo aver configurato il nostro ambiente di lavoro siamo finalmente pronti a scrivere il nostro primo script in Perl. Potete utilizzare l'editor che più vi aggrada. Io vi consiglio ovviamente un editor con syntax highlighting in modo tale da aiutarvi durante la scrittura del codice. Il programma che andremo a vedere è il classico ciao a tutti, anche conosciuto oltreoceano come hello world. Programma molto semplice, la funzione print restituisce in output la stringa ciao a tutti. Il punto e virgola indica la fine dell'istruzione. Quindi salviamo e andiamo subito ad eseguire il nostro script. Per eseguire uno script di Perl bisogna richiamare l'interprete ovvero il Perl e poi indicare il percorso dove abbiamo salvato il nostro file. Nel mio caso in desktop sotto prova.pl. Eseguiamo e come vedete funziona tutta meraviglia. Restituisce ciao a tutti. Però come mai restituisce ciao a tutti sulla stessa riga di nome utente e nome pc? Questo perché ci siamo dimenticati di aggiungere una cosa molto importante. Il carattere speciale nu line che sarebbe backward slash n. Questo qui è un carattere che non viene restituito in output ma viene interpretato appunto come nuova riga. Infatti se adesso andiamo ad eseguire il nostro script non funziona perché non l'ho salvato. Come vedete restituisce ciao a tutti e poi va a capo. Però come detto in precedenza essendo il Perl un linguaggio molto 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 particolare e il suo motto essendo app c'è più di un modo per farlo esiste anche una versione alternativa per raggiungere questo risultato ovvero questa forma qua. Use feature è una direttiva si dice proprio di utilizzare la feature say. La feature say cosa è? È la stessa funzione di print solamente che alla fine della stringa e aggiunge implicitamente il carattere new line. Quindi andiamo a provarlo. Come vedete senza bisogno di aggiungere il new line va a capo automaticamente. Se vi state chiedendo quale fra le due opzioni sia la migliore vi rispondo nessuna delle due in quanto è una semplice questione di gusti personali. Potete sia aggiungere manualmente backward slash n alla fine della stringa o altrimenti affidarvi alla feature say e lasciare che sia essa ad aggiungere il carattere speciale new line alla fine della vostra stringa. Ci vediamo alla prossima lezione e per oggi è tutto.